Un uomo è morto folgorato mentre si stava facendo la doccia in casa nella serata di lunedì. L'episodio si è verificato a Casarano in via Quinto Egno, nell'abitazione in cui il 52enne Rocco Denuzzo viveva da solo. Dalle prime informazioni raccolte sul posto dai carabinieri, l'uomo sarebbe stato investito da una scarica elettrica proveniente dallo scaldabagno. Il 52enne, che era atteso per un appuntamento dal fratello, era stato più volte contattato telefonicamente, viste le mancate risposte. È stato raggiunto nella sua abitazione dove è stata fatta la mara scoperta. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, oltre a loro anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. Avvisato il pubblico ministero di turno, già in serata la salma è stata trasferita presso la casa della madre che abita nelle vicinanze, anche in seguito al blackout che è interessato l'abitazione del 52enne.